6 dicembre 1921. Dopo circa due anni di conflitto, viene siglato il Trattato Anglo-Irlandese. Al libero stato d'Irlanda viene riconosciuto lo status di dominio. L'Irish Free State, legato alla corona con un giuramento di fedeltà e membro del Commonwealth britannico, si compone di 26 delle 32 contee complessive dell'isola. Per le sei contee situate nel nord-est dell'Irlanda, la sovranità è sospesa nell'attesa che la popolazione, per due terzi protestante, decida se aderire o meno al nuovo Stato. 1916. L'Irlanda fa ancora parte della Gran Bretagna. L'isola verde è amministrata da funzionari comandati da Londra, con mano piuttosto dura. Dublino, pur essendo la seconda città del Regno Unito, non conosce la prosperità dell'Inghilterra. Però molti irlandesi pensano che sia necessario far fronte comune con gli inglesi contro i tedeschi, dimenticando le discordie interne, e partono per la Grande Guerra. Anche le donne si sono arruolate nei servizi civili. Per costringere Londra a rinunciare al suo dominio di sette secoli, i nazionalisti dovevano passare all'azione. O peddi, peddi, guarda i nostri campi falciati, guarda l'autunno venuto anzitempo a mettere il grigio dove il verde fioriva. Era un lunedì mattina, in alto, sui campi di Trifoglio, Charles Bonny diede la sua giovane vita per la causa della libertà. Un nuovo martire della nostra isola, un nuovo assassinio per la corona. Gli irlandesi avrebbero potuto spezzarsi, tennero invece alto il loro spirito. Un nuovo martire della nostra isola, un nuovo martire della nostra isola, e partono per i nostri campi falciati.